...della dizionale comunale era possibile, solo ed esclusivamente, quando il Comune avesse potenziato la capacità di discussione. Io lo confermo, nel senso che non ho nulla di cui rimanerà. Siamo a un funcio, mi risulta che ci siano stati spietati più tentativi per l'insediamento della Commissione, quindi l'ITER procede in maniera assolutamente regolare, certo che noi vogliamo fare le cose per bene, e quindi, insomma, non intendiamo accorciare i tempi da questo punto di vista, ribadisco che qualora il Comune dovesse potenziare la capacità di discussione e quindi a incamerare maggiori risorse, si può realisticamente pensare, seriamente pensare, di ridurre significativamente la dizionale comunale, non certo come un 40.000 euro che provando a fare due punti, mi pare 7 o 6 euro al anno, tanto abbiamo ammuntato, quindi 70-80 centesimi mediamente a l'inizio, di fatto non se ne sarebbe accorto nessuno, e probabilmente, ecco, un'opposizione ci avrebbe neanche tacciato di populismo, quindi noi miriamo ad una dizione della dizionale maggiore, consistente, che sia visibile, ma quando ce ne sarà la possibilità, perché tu conosci bene le condizioni del bilancio del Comune di Calpizzano, noi che ce lo dobbiamo ricordare, poi avremo modo di affrontare il problema nei prossimi consigli comunali e quindi anche per quanto riguarda, lo dici, l'otto minimo, ma il regolamento in del Comune di Calpizzano è stato modificato, noi abbiamo dato la possibilità, perché forse tanti cittadini o hanno, come dire, sono allo scuro di questa informazione, oppure l'hanno sottovalutato, ma abbiamo dato la possibilità ai cittadini di sottotitulare al Comune di Calpizzano una perizia nella quale per vari modifici, anche legati al regolamento in delizio, che è un regolatore o quant'altro, un regolatore, un regolatore, un regolatore tecnico, che ci sono tecnici, insomma, bravi, preparati, che sono molto più bravi a spiegare quali sono i problemati, quindi poi vorre all'ufficio tecnico, dove ne deriva poi un'oggettiva inedificabilità. Quindi a quelli noi abbiamo dato la possibilità di presentare le istanze, di affrontare le istanze, perché non di ridurre, diciamo, a base imponibile su cui calcolare il numero. Questo centro regolamento in non c'era, è stato inserito, quindi dire che non facciamo proprio niente, insomma, non abbiamo la pacchetta magica.